Lo so, lo so, boxare siete arrabbiati, eh? Perché avete letto questo titolo? Allora, prima di tutto Perché Perfect Dark è il nuovo Halo Infinite? Perfect Dark è un altro proiettile di Microsoft che non va a segno Anzi, sbaglia totalmente il bersaglio Avrebbero fatto più bella figura ai miei occhi Quelli di Microsoft Se avessero pubblicizzato una nuova IP Creata da Initiative E invece loro che hanno fatto? Hanno preso Perfect Dark Hanno dato a Initiative Perfect Dark A questo team della Madonna A questo mega team formato da ex Santa Monica Ex Naughty Dog Ex tutti Tomb Raider della Core Design e Crystal Dynamics Io sono più che felice che Perfect Dark è stato dato in mano a loro Piuttosto che a Rare Era un proiettile In fatto di marketing Che poteva sfruttare Microsoft Per dimostrare di essere un'ottima azienda E invece l'ha sparato a salve Vi spiego il perché Perfect Dark è un titolo uscito su Nintendo 64 Che ha avuto un grande successo su quella piattaforma Ma ricordiamo che quella piattaforma Non è che sia stata così popolare O che abbia venduto così tanto Quindi è un titolo che è rimasto relegato a Nintendo 64 In seguito è uscito il capitolo successivo Perfect Dark Zero Su Xbox 360 Ma come ben sappiamo quel titolo ha flopato Decretando così la morte dell'IP E soprattutto è uscito in bundle con l'Xbox 360 all'inizio Quando Xbox 360 non aveva ancora cominciato a macinare vendite con Gears Cosa voglio dire? Che Microsoft qui ha sbagliato Doveva dire fin da subito che stava sviluppando Perfect Dark Ed Initiative stava sviluppando Perfect Dark Perché così youtuber del cazzo come il sottoscritto O che ne so un saccio una minchia O un qualsiasi altro influencer Avrebbe in questi anni pompato l'hype per questo Perfect Dark Avrebbe fatto scoprire cosa è Perfect Dark Avrebbe parlato di Perfect Dark E chi tra voi dice che è famosa Perfect Dark come IP Forse non tiene conto che i maggiori giocatori sono i ragazzini Molti ragazzini nascono da epoca PS2 o PS3 Perfect Dark non sanno nemmeno cosa sia Quindi è un'IP vuota E la cosa che dispiace è che invece non è così vuota come IP È una bella IP Solo che di nuovo come con Alien Infinite non l'ha saputa valorizzare Microsoft Doveva dire fin da subito, lo ripetisco, doveva dire fin da subito che stava sviluppando questo gioco Così da permettere a tutti gli influencer Chi cazzo ne so chiunque Che era fan del Perfect Dark originale Di creare lore su lore story Spiegare approfondimenti Così da far arrivare al giorno d'oggi I probabili nuovi acquirenti di questa IP Con un hype pazzesco Con la voglia di acquistare questo Perfect Dark Perché avevano sentito narrare le gesta Invece così hanno buttato fuori una IP di valore Distruggendo la sua importanza Infatti mi sto sentendo spesso Ma che cosa è Perfect Dark? Cioè Molti ragazzini non sanno cosa è Mi stanno domandando Cosa è Perfect Dark? Non so nemmeno cosa sia Ecco il motivo per cui sono arrabbiato Ecco il motivo per cui Questo video sfogo Perché veramente Perfect Dark Poteva essere Un'altra killer application della Xbox Series X Ma è stato Da capo nuovamente Come sa solo fare Microsoft È stato fatto un marketing becero È fatto malissimo In virtù del fatto che Non dicendo niente La stampa specializzata Compreso il sottoscritto Tutti abbiamo montato un hype pazzesco Sapendo che c'erano sviluppatori di Uncharted O di Tomb Raider Tutti avevano pensato che stavano sviluppando Una nuova IP tipo Uncharted Per assurdo che Square Enix Avesse venduto Ceduto le sue IP tipo Deus Ex O Tomb Raider A questo team Tutti noi ci aspettavamo come annuncio ormai Dopo anni di silenzio da parte di Microsoft Si era così montato l'hype Si era così montato l'hype Che tutti ci aspettavamo Una qualsiasi IP amata Che tutti stiamo aspettando Ma non di certo Perfect Dark Quindi Per me Microsoft Ha fatto di nuovo la sua taffazzata Poteva essere molto di più Quest'annuncio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.